Tornare a valorizzare la montagna e il Gran Sasso in particolare, guardando le migliori esperienze del nord Italia ed europee per offrire nuove opportunità occupazionali ai giovani. E questo l'obiettivo della neonata associazione Gli Amici del Gran Sasso d'Italia, capitanata da Walter Mazzitti, il cui primo atto è stato un convegno organizzato a Teramo in cui analizzare quale possa essere il futuro della montagna abruzzese. Una comunità appunto di gente che ama la montagna che in futuro, che da subito, inizierà a lavorare per cercare di creare nuovi progetti. E il nostro sguardo prioritariamente è rivolto ai giovani e al lavoro, ai giovani che dovranno pensare che c'è una via d'uscita in una situazione così drammatica come quella che viviamo da un punto di vista economico. Ed è la nostra montagna. Basta alzare lo sguardo, guardare verso il nord del paese, guardare cosa hanno realizzato nel Trentino Alto Adice, cosa hanno realizzato in Val d'Aosta, solo ed esclusivamente utilizzando e sfruttando in maniera corretta, eco-compatibile, la montagna. È quello che non abbiamo fatto mai noi in tutti questi decenni. Insomma, la montagna è il Gran Sasso d'Italia, il massiccio del Gran Sasso d'Italia deve diventare il nostro totem identitario.